Musica Ma ragazzi come se sarebbe ritrovato nel mio canale oggi sono di nuovo qui assieme a voi ragazzi In un ennisimo episodio del rotus clerander Grazie mille a tutti per il supporto come sempre a ogni video Vi dico sempre grazie signori perché siete in tantissimi Prima di guardare questo video andatevi a vedere lo scorso episodio che prestazione ho fatto signori Ho appena finito la partita e registro subito un'altra in questo modo qua Sperando di avere ancora la possenza, la forza nelle mani di portarvi una prestazione simile Vi dico solo che ho chiamato quattro volte il talon Cioè pazzesco Uccisione confermata ragazzi fanno un tot di punti Tantissimi proprio Vai vai gabbo vai Madonna mia in quanti erano? In tre? Ovviamente il mio mio ha mirato prima Quello cui non serviva un cazzo mirare Ok niente 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 raga Sono concentratissimo Io più che altro che so usare bene quest'arma tutto qua Cioè per me l'arma è una delle armi più forti di questo gioco Qua mi uccidono Ok almeno confermate le uccisioni raga Devo arrivare sempre MVP Questa volta signori Visto che lo scorso video ho failato di brutto Mi piacerebbe che Voi tutti mi metteste 30.000 like Chiedo 30.000 like Se in due partite nuketown uccisione confermata Sempre se anche la prossima sarà uccisione confermata Arrivo sempre MVP Sarebbe veramente tattissimo raga Dai muori Ok Ok Vecchio meglio andar via da qua Bravo Aspetta un secondo solo Ok Occio occio Minchia Via Eh raga si si Eh sti cazzi del rato deve arrivare MVP raga MVP Anzi facciamo così La sfida è ancora un po' più interessante MVP ma con un bel rato Possibile secondo voi? Secondo me si Ah porca puttana Però di là Ragazzi sono un po' più forti rispetto allo scorso episodio Eh Lo spawn adesso questo me lo devono spiegare Lo spawn in questo modo qua Vai Gabo vai 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 Ok Minchia Se durasse un po' di più questo bonus qua Ah Eeeh col cecco Addirittura And i bomber Ma è stato bravo Non avevo da dire raga Vai raga qua ci sono delle piastrine Vai figa ostia Sette sette raga Di là Millequattro e cinquanta Mi ha superato Mi ha superato uno Ale Ciao bomber Italiano Granata Io l'ho attaccata signori Penso di averli attaccato Ho sentito tipo il Ah forse l'hanno ucciso nel frattempo che Ah che succede eh Non ci sto capendo il cazzo raga Sapete che cos'è? Ho paura di uscire Un grande problema No vabbè dai Sta roba no però Non mi piacciono raga Ste cose Allora Ok Vai G Metti questa Bravo Fai sopra di qua No sono dall'altra parte Vai con l'assist Va bene va bene Va bene l'assist Va bene l'assist Schiavo Vai bravo Ahia pachi Ancora il pisello che mi tocchi Mi piace così tanto il mio pene Secondo me raga c'è un cane che è omosessuale Mi piace il mio pisello Forse raga non è che vuole il mio pisello Che c'è tipo il C'è tipo il laccio Del Il pantalone Allora lui cerca di prenderlo Tutto e due dai 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 Bravo 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 Gabbo Ehi Bravo Gabbo Bravo Gabbo Bravissimo Così ti voglio Ho di nuovo chiamato il Wab LOL Vai 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 Che gli arrivi in culo Va Va benissimo raga Va benissimo Che macello ho fatto Bravo Ok 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 Bravo E adesso chiami anche Il tuo bellissimo talo Ok Pensava di farmi fuori Raga ma svegliatevi Svegliatevi Raga Oh my god Ma che cazzo sto Raga non mi riescono ad uccidere Ma secondo me ce l'ho ancora io al tale Ma è una stronzata raga Ma bello che sto anche parlando un cifro Cioè non è che sono in Gabbo mode No forse lo potevo chiamare Si potevo chiamarlo lanciandolo forse Vai che sono tutti qua Oh uno forse lo ammazzo Ammazzo uno Neanche Fa piacere Uno È arrivato dopo ma uno Meglio tardi che mai raga no? Niente da fare Niente da fare Che cosa Zira Ah qualcuno mi ha scritto Gabbo puoi togliere il volume del joystick Si lo faccio raga Lo giuro lo faccio Adesso Prossimo episodio lo faccio Pronto Merda Pensavo fosse lì raga Oh No raga Ma che cazzo faccio Non ce l'ho la pistola Merda Me l'hanno distrutto Bastardo Overdrive disponibile signori Ok allora Dobbiamo assolutamente usarlo Vai 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 Merda Comunque raga L'overdrive è fantastico Su Newtown Ci fai tutta la mappa In 5 secondi 30-13 MVP Assolutamente Con anche il miglior rapporto Con decisioni morti Raga ha fatto una serie Prima che porco 2 Neanche Sandy Rampage Ravage Che poi si chiama così Raga non mi ricordo Madonna mia Era il mio idolo lui Ai tempi d'oro Faceva Su Mv2 Ve lo ricordate Che che lo conosceva Che che lo conosceva Raga Dove bagli la piastrina Bravissimo Come loro fanno con te E del resto Bravo Bravo Vai Gabbo Prendi le titte Bravissimo Bravissimo Gabbo Perché poi Cioè Voi Con quella serie Ci viene lì Cioè con quella Con quella specialità lì raga Cioè voi Diventate velocissimi Quindi prendete tutte le piastrine Della mappa Cioè voi dovete concentrare Solo sulle piastrine Dovete provarci Io ho voluto provare Per fare qualcosa di nuovo Ma Hai voluto fare un risultato Della madonna Eh Ma però regali Spon qua Si approccio eh Ragazzi bravo Aspetta Esci assaltando Niente Sono già passati Dove dov'è Ok Bello Cazzo La prima raffica Non è andata Se no era bellissima Che questa Vai Gabbo Ok di qua Regà È vero che Nuketown è abbastanza monotono Però Mi sembra che sia Il modo migliore Per comunque Merda Merda Sembra che sia il modo migliore Per aumentare Di livello veloce Che cazzo fa questo Andiamo a fare il bomber eh E dove si fa più punti Dove ci si diverte di più Merda Ma regà Ma è passato di piatto questo Eh ma ha ucciso pure Ci credo Ma guarda quello là che non uccide Dove dove Cazzo Ancora quello lì Che mi ammazza Ostia Dai che siamo in testa Via Ah Sto perdendo colpi raga Minchia Neanche il rato di due Un rato di due preciso Ma sapete che cosa Secondo me perché Non ho giocato Come pensavo Ho fatto poche kill Quando dovevo farlo Cioè ho fatto troppe morti Dai ossia che qua Muori eh Ok bravo Dov'è dov'è Ah è morto è morto è morto Vai corri 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 Sì no dall'altra parte Dall'altra parte raga Lo sapevo 22 morti raga Ma sono tantissime Ve lo giuro Pensavo di fare un risultato migliore Stavo facendo un risultato migliore Combattente eliminato Vai Bravo Bravissimo Bravissimo Bam Mer mer Ragazzi lo uccidevo col pugno Era epico Però signori 48 uccisioni 22 morti 44 confermate Signori 7700 punti Bravo GdSquared Passiamo subito la seconda partita Poi facciamo un bel resoconto sulle statistiche Andiamo a vedere quanto ho di rateo E siamo ancora qua E già Ma ragazzi Ve l'ha ricordato quel video raga Bellissimo Comunque Andiamo raga Cazzo Minchia era già lì a sinistra Gomber Minchia raga Ragazzi di nuovo MVP eh 30.000 likes ci arrivo Forza No Ha iniziato male 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 Due morti già Raga con calma Con calma Pachi Fermo Fermo amore Dopo arrivo Dopo dobbiamo andare a prendere la sigla L'aeroporto amore Oh cazzo Ma guarda te Sembrava un morto Ma che schifo Raga dai Ma ti metti lì per terra Merda Ok vai 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 Prendi quelle due persone Bravo gabbo Prendi anche quest'altre due Nooo volevo fare la roba della madonna ragazzi Vai che ci arrivi Quanti li ha matto tutti i cardo Bravo No raga questo doveva morire però eh Occio eh Vai col UAV Io ruine Sono tre partite che lo sto giocando raga Adesso capisco come va È pieno di ruine Spero tutto in postazione ragazzi Che fai tipo la super del titano Quella epica No eh dai qua c'era una doppia già preimpostata Però ovviamente vado a prendere quello che fa la ricarica E non quello che mi sta sparando Per primo Se avessi preso quello che mi faceva Mi sparava avrei fatto la doppia E basta ostia Scusami eh zio Tutto bene che ti voglio Overdrive pronto Dove 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 dai Mi sparano Eh vabbè dai ma lì si vedeva solo la testa ragazzi Come cazzo ha fatto non morire Ok vai Vai bravo Madonna lì c'era una doppia della madonna Se avessi fatto Il drop shot Cristo santo Mila e sette Ancora Ancora MVP raga Aia 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 Vabbè regà anche in sto caso qua però solo la testa Che si vede Regà lì l'ho preso in testa In testa l'ho preso quello Cioè lì si vedeva solo la testa regà Io ste cose che non capisco Guarda Regà non vogliono più Vabbè ma è meglio così Mi prende che arrivo primo Vai Gabbo Gabbo non muore Ma ha detto un tizio Madonna mia Eh però sono morto Gabbo non muore C'ho 12 morti Sono quello che ha più morti Sto facendo 10-12 Regà Che schifo Stiamo a giocare la stuzia Dai Buona basta Basta raga Vai 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 Scatta 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 Dai che sono tutti lì Che cazzo però regà Come cazzo hanno fatto Non morire quelli là Tutti lì erano Pian piano Gabbo Dai piano piano No cazzo c'è il tizio qua Madonna mia stava ricaricando Con me Vai tutti i tuoi Ah il bastardo Bastardone Con ruine Ok Sparito 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 nell'oblio Aia Dai 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 Ah porca puttana Con la ricarica di merda Santa madonna Vai Gabbo Veloce Veloce Ma dai ma guarda che schifo Ma è la fermo Ma che merda Che sei Vai Gabbo Bravissimo Vai 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 glielo spawn Dove non la ricarica Regà Poi dopo Beccarsela così Dai Ma che scheppalle Regà Quando succedono di ste cose Mamma mia L'odio Regà quanto odiate Quando c'è la ricarica In mezzo ai coglioni Sempre quando c'è la tipo La tripla della vita Ok finito il discorso Vado e arriva il tizio Guarda Qua ragazzi Ha dato una laggata Epica Infatti ci sono Un'attacca Due tacche Eh raga Quando lagga In tesino Prima Io non ho guardato Perché non avevo interesse Di guardare Perché io non laggavo Ma non so se le altre laggavano Madonna Dio benedica Anche scheggia Non muore Gabbo Guarda come mi aspettava Porca puttana Qua è stato furbo il tizio Morto Bravo Gabbo Quello lì lagga Una marea Raga Quello lì Potete capire Quanto cazzo lagga Via Da qua Ci ha messo due ore Gabbo allevati Del cazzo Da lì No raga Questo era mio Quello era mio per forza Quello era mio per forza Vai di qua di qua Se vedi qualcuno Gabbo Eccolo Eccolo Prendo la sua targhetta Come giusto che sia Ora vai di qua Bravo Vai Gabbo Ce l'hai un altro Un altro ancora Vai con l'altro Bello Quad 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 Mamma mia Signore e signori Spettacolo Gd squared Porco due Che quad Che ho fatto Vai a prendere le tue targhette Gabbo Raga non conviene Comunque farle scivolate Ah questa mi ha beccato Proprio in pieno Ragazzi Ruine in uccisione confermata È qualcosa di epico Cioè vi prendete Tutte le piastrine Poi nuke town Non ne parliamo Cioè ragazzi Giocare tutta la notte Qua Non posso fare Episodio infinito Solo sul town Insomma Però penso che ci sia Il maggior intrattivimento Fatemi sapere Anche magari con un commento Raga È importante per me Il vostro feedback Ok Andiamo avanti Anche perché per me Non è per niente facile ragazzi Continuare a parlare In continuazione E cioè Penso che non sia Una cosa da tutti Perché io non ero più abituato A fare Sti tipi di Sti tipi di Sti tipi di video Merda No 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 dai Avevo appena attivato Il ru Un cerberus di merda Santo dio Dov'è il tizio che spara Ti ammazza la gente Mamma mia Gabbo Gabbo qua non ti sei regolato È morto L'ho ucciso Gabbo qua davvero Non ti sei regolato Vabbè qua però Non è morto Raga C'è 6.000 punti Raga non mi beccano più Per cui la mia squadra Cioè raga Stiamo anche perdendo Dai però Cristo santo Ho sprecato il ruine Ho sprecato il ruine Della madonna Vai Mori Vai Gabbo Vai Bravissimo Ah Da dove Ma dove regà Quello non l'ho visto per niente Davvero Che vedete Ho paura qua Bello No regà Non è morto qua E cazzo per pochissimo Non prendete anche la cosa Dai però cazzo Mi hai sgamato le due L'Uccisione della madonna Mi ha chiamato E muori Non te lo metti Anzi no Ti difengo di più Però la prossima volta Me le lasci le targhette Stronzo Però sei morto lo stesso No 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 Va bene Basta Ok Vai G La 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 Capattana Schifosa L'abbiamo perso Comunque Vabbè Ah merda Non me l'ho fatto Io ho cercato Di far vincere la squadra Overdrive pronto a far danni Ecco la Verdrive Ah Sono andato Mai a fare i tagli Ragazzi Come passarla Quando sei in difesa Farò un passaggio centrale Qui eh Mai Mai nella vita Ragazzi Abbiamo perso Ma penso di aver fatto Una partita epica Saluto i bomberissimi Che sono qua Se mi conoscono E Davvero ragazzi Grazie infinite per il feedback 20 minuti di registrazione Ci saranno comunque 18 19 Perché c'è anche L'inframatch Che non metto mai Grazie mille a tutti ragazzi Davvero Vi voglio bene dell'anima Lasciate un mi piace Un commento Qui da Capri Squad È tutto Ciao bomber Ah